Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi sono davvero molto molto contento di presentare l'ultimo nato in casa Italia Medievale, perché questo è un saggio che abbiamo appena pubblicato dal titolo Pisa e l'Islam, scontri e incontri sulle rotte del Mediterraneo. L'autore è Andrea Angelini, sono 80 pagine per soli 10 euro, quindi una cosa da acquistare subito senza neanche chiedersi il perché. Io sono felice di avere con noi Andrea, al quale lascio subito la parola perché ci parli un po' di questo saggio. Prego Andrea. Buon pomeriggio a tutti, io sono Andrea Angelini, laureato recentemente all'Università di Pisa, la triennale di storia medievale e attualmente sto frequentando la magistrale, la specialistica, sempre a indirizzo medievale. Il saggio di cui parlava Maurizio è la mia tesi di laurea, triennale, che ho scelto questo argomento per sostanzialmente a seguito di una, di un mio, di la mia frequentazione a un seminario a Pisa sempre sulle relazioni tra Pisa e l'Islam nel corso dei secoli, dalla comparsa dell'Islam fino all'età contemporanea e tramite la mia relatrice, che lei è specializzata in storia economica medievale, ha fatto diversi lavori su appunto il commercio della lana a Pisa, ma anche a Firenze, la produzione della seta a Lucca e così via, che è la professoressa Alma Poloni. Ho scelto questo argomento appunto perché secondo me è importante vedere e rileggere questi contatti commerciali che Pisa ha stritto con i potentati islamici sotto una nuova luce. Infatti la storiografia classica parte dal presupposto che Pisa stringesse questi contatti in seguito a dei contatti militari e che soprattutto questi contatti militari erano studiati e pensati proprio allo scopo di intrattenere poi relazioni commerciali. In realtà questa visione della storia è falsa perché non esistono prove a sostegno di questa affermazione e basti dire che il primo trattato commerciale di cui abbiamo di cui sappiamo ecco di cui abbiamo eh come posso dire notizia eh risale a quarant'anni dopo la 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 l'ultima spedizione pisana scusate quarant'anni, vent'anni dopo l'ultima spedizione pisana eh è del mille centotrentatré eh è il primo trattato che i pisani stringono con i signori del Maghreb eh l'ultima spedizione militare di Pisa invece risale al mille centotredici mille centoquindici nelle Baleari quindi non c'è una una reale connessione tra attacchi militari e relazioni commerciali. Quindi bisogna a oggi chiederci eh perché i pisani compissero queste spedizioni eh militari e eh il lavoro che ho fatto io parte sostanzialmente da un articolo di del professor Giuseppe Petralia del anche lui dell'Ateneo di Pisa che eh che si intitola appunto Navi e cavalli eh una rilettura del del Mediterraneo pieno medievale. Appunto lui eh usando questa metafora delle navi e dei cavalli eh sì che sono le figure che eh contraddistinguono contraddistinguono le navi i i chiaramente i mercanti i mercanti pisani e i cavalli sarebbero il simbolo dei cavalieri e tutta la storiografia medievale si basa su questa distinzione su una classe di mercanti e una classe di cavalieri in realtà Petralia riesce a dimostrare e io ho cercato rimettendo insieme un po' le le varie i vari articoli le varie eh notizie che abbiamo su questo argomento eh comunque Petralia riesce a a dimostrare che non esisteva una diretta distinzione appisa tra cavalieri e mercanti ma erano sostanzialmente un'unica un'unica classe che aveva sia al suo interno sia ideali mercantili che militari eh erano eh le famiglie eh più importanti le famiglie militari Milites di Pisa erano sostanzialmente i la facevano parte della classe mercantile che a loro volta poi sarà quella che prenderà il controllo della città di Pisa del comune di Pisa eh quindi eh perché perché questi questi militari mercanti attaccavano quelli che poi dovrebbero essere i i futuri eh i loro futuri partner partner commerciali proprio per la questa natura dei dei Milites che anche che che abbiamo che sappiamo avere ecco diciamo così i Milites per loro natura fanno la guerra eh sono cavalieri e quindi eh per loro natura devono dimostrare la loro forza è un uno status symbol essere cavalieri i nobili sono cavalieri e fanno fanno la guerra e loro non si esimevano da fare da fare la guerra contro contro i musulmani a maggior ragione Pisa viene a essere il braccio armato della cristianità in questi secoli nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo e quindi il papa eh si appoggia ai suoi alleati pisani e ai marchesi di Tuscia per dimostrare la sua forza agli occhi dell'impero, agli occhi dell'impero, agli occhi dell'impero romano eh d'oriente chiaramente e agli occhi anche dei normanni e dei musulmani stessi e infatti le principali spedizioni che Pisa compie eh nell'undicesimo secolo sono sostanzialmente delle guerre sante eh contro i i musulmani eh ce n'è una in particolare che è quella più forse dopo quella delle Baleari che è raccontata in due libri addirittura in due opere epiche eh scritte dai pisani la più importante che eh che di cui abbiamo notizie è quella del milleottantasette che i pisani compiono a in territorio africano a Amadia e Zawila e è una spedizione che molto grossa che coinvolge pisani ma anche genovesi e e soprattutto eh il tutto venne detto dalla dall'intervento del papa eh sono presenti anche le insegne di San Pietro quindi eh è una un'impresa che vede il papato molto presente eh è una guerra che coinvolge quattrocento navi e trecentomila uomini si assiste al saccheggia la distruzione di questa grande città mercantile del Maghreb eh alla conquista della rocca alla sottomissione del califo eh che giura fedeltà al papa di Roma e si impegna a pagare un indennizzo annuale alla alla chiesa di Roma quindi eh poi eh questo il bottino con cui i pisani ritornano in patria servirà a progressa a proseguire la costruzione del duomo che possiamo ancora oggi vedere eh nella cosiddetta piazza dei miracoli eh e in più servirà la costruzione della chiesa civica di San Sisto che ancora oggi possiamo vedere San Sisto in corte vecchia eh sono sono i simboli di di Pisa Pisa si riconosce in queste due chiese si riconosce in queste spedizioni e e tramite queste spedizioni si sente come una nuova Roma una nuova capitale dell'impero romano risorto che però non esiste chiaramente e sono ecco sono queste le le cose che che cerchiamo di capire oggi cioè perché facevano queste queste spedizioni senza avere la certezza di riuscire soprattutto con la certezza di non poter imporre il proprio dominio su terre così lontano eh è una domanda a cui non si è ancora riuscito a rispondere se non che eh i pisani agivano in questa maniera proprio per per questa natura classica dei cavalieri di dover combattere a tutti i costi la i pisani poi chiaramente partecipano come tutti sappiamo alla prima crociata però ecco forse è proprio questa spedizione in terra africana la vera crociata dei pisani e oltre a questa chiaramente la il tentata la tentata conquista delle baleari che avviene effettivamente nel 1115 ma che dopo pochi anni ritornerà in mano musulmana e quindi eh forse questa ultima grande spedizione dei pisani ha fatto capire che alla fine non erano in grado di sostenere questi impegni militari e hanno preferito eh affidarsi alla forza della del commercio ecco c'è da dire che i pisani non me ne vogliano e sono un po' opportunisti i pisani e quindi vanno un po' dove tira il vento quindi finché gli è convenuto fare la guerra hanno fatto la guerra e quando gli è convenuto invece stringere alleanze commerciali hanno scritto alleanze commerciali ecco eh però ripeto i pisani non me ne vogliano perché sarebbe troppo grave la situazione e niente ecco questa questa è la sostanzialmente è la mia tesi che si articola in quattro capitoli eh il primo capitolo cerca di ripercorrere un cerca di trovare una continuità eh dal momento del crollo dell'impero romano fino a questo undicesimo secolo in cui Pisa risorge dalle ceneri è una continuità testimoniata dai dai ritrovamenti archeologici eh il porto pisano ci ha riconsegnato delle navi ci sono stati dei ritrovamenti di ceramiche quindi non è una situazione così catastrofica come si legge nei libri libri classici di storia per cui eh si era annullato il commercio e non c'era più nessun nessun contatto eh fuori dalle mura cittadini eh nel secondo capitolo invece affronto il dibattito storiografico appunto storiografia classica e questa nuova visione introdotta da da Petralia eh ma anche da altri da altri storici come Ronzani e la stessa Enrica Salvatori sempre entrambi professori del dell'Università di Pisa ehm una visione che si scontra con con la con la visione con la storiografia classica eh poi nel terzo capitolo cerco analizzo nello specifico le varie spedizioni cercando di ho cercato di recuperare le varie fonti in cui sono trattate queste spedizioni quindi le varie epigrafi che sono state affisse alla parete del Duomo e le cronache pisane del tempo e eh nell'ultimo capitolo il quarto invece analizzo eh le relazioni commerciali tra Pisa e questi signori islamici in particolare concentrandomi sul sul Maghreb eh ma poi anche sull'Egitto e sulle Palleari il Maghreb è particolarmente importante per per via del della lana della lana africana che in questo periodo riesce a ad ottenere una certa importanza per la sua qualità che non è una qualità eccellente come può essere la lana inglese che era invece utilizzata dai mercanti fiorentini per produrre i propri panni di lana ma è comunque una lana di di discreta qualità che permetteva la produzione di panni lana di bassa e media qualità per un mercato più per le classi medie ecco diciamo del 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 popolo medievale dell'epoca eh importante il Maghreb è anche per le pelli Pisa è molto attiva nel nella conciatura delle pelli e nel nella vendita del cuorio e quindi ecco ci sono poi abbiamo molte più informazioni per quanto riguarda il Maghreb rispetto invece alle alle Baleari eh che eh vedono la presenza dei pisani però sempre sotto un po' sotto tono infatti erano i genovesi quelli che dominavano più che altro la zona palearica e della Spagna eh islamica eh l'Egitto anche è importante per i pisani ma forse la troppa vicinanza con i regni crociati in cui Pisa aveva un svolgeva un ruolo fondamentale ha fatto sì che i signori islamici non non si fidassero appieno del 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 degli accordi stretti con i pisani ecco tutto qua e niente io ho una curiosità da sempre sì ma Pisa che era così attiva fuori no soprattutto lontana da da se stessa non ha mai sviluppato un'idea di conquista del territorio circostante non ha mai avuto un'entroterra e mi sono sempre chiesto come mai beh eh cioè non è del tutto vero comunque sia c'è una leggera come posso dire eh tentativo di colonizzare eh soprattutto l'arcipelago toscano e parte della costa ecco eh nord del nord nord tirrenica eh però ecco c'è sempre stata questa eh questa come posso dire eh questi scontri tra Genova per il controllo del mare e tra Lucca e Firenze per il controllo dell'entroterra eh Pisa e Lucca sono molto vicine eh quindi poi Lucca controllava la Francigena quindi aveva tutto un una importanza relativa però ecco eh Pisa cerca comunque sia di di costruirsi un un contado un po' più ampio non ci riesce del tutto però per questi motivi perché ci sono altri fattori ecco la vicinanza di altre città comunali e soprattutto con Genova eh con la vicinanza a Genova per quanto riguarda il controllo del mare ha ha giocato un un ruolo importante eh comunque sia Pisa Pisa un un certo un certo grado di colonizzazione l'ha raggiunto basti pensare che l'arcivescovo di Pisa è primate di Corsica e di Sardegna ancora oggi però ecco è un cioè l'interesse della curia pisana in Corsica in Sardegna sull'isola d'Elba eccetera sono molto forti e basta insomma ecco sì sì no tutto vero mi ricorda un po' gli inizi della vita di Venezia che prima di decidersi andare in terraferma eh rimane ancorata alla sua laguna sì 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 e però poi primo per poter competere eh deve andare in terraferma per forza e arriverà fino a Bergamo quindi fino a puntare eh a puntare addirittura su Milano ecco anche anche qui eh per un lungo periodo ha preferito sviluppare la sua attività sul mare lontano dalla dalla madre patria tra virgolette e piuttosto che preoccuparsi di eh consolidare i propri domini sulla terraferma e e Pisa è è ancora più emblematica perché ancora oggi Pisa è dentro una cerchia muraria che eh uno fa fatica a a collegare alla potenza che ha rappresentato Pisa in un certo periodo no sembra una cosa piccolina tutto sommato no invece Pisa è cioè di solito ecco quando si pensa ai comuni toscani Firenze eh è Firenze che ha governato la Toscana in realtà Pisa in in nell'undicesimo secolo è una delle potenze più 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 forti ecco cioè eh il il vescovo di Pisa da Iberto è nominato per per la sua importanza e per la sua rilevanza eh da in tutto è il primo patriarca latino di Gerusalemme una volta che viene conquistato da dai cristiani viene riconquistata a Gerusalemme quindi giocava un ruolo fondamentale Pisa ma anche in relazione al Papa ecco cioè il Papa si appoggiava tantissimo su sulla città di Pisa sui pisani questa questa appoggio poi viene meno nel momento in cui Pisa sceglie di schierarsi con con l'impero cioè Pisa è chiaramente la città ghibellina per eccellenza certo infatti quello segna anche forse un suo punto di cesura no nella nella possibilità di di uno sviluppo diverso quindi e questo è molto importante è ghibellina fin nel bidollo Pisa sì 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 non c'è dubbio su questo e eh beh c'è da studiare su perché anche perché Pisa è davvero una delle città più belle più ricche di di testimonianze ma non solo il il romanico pisano e forse non dico il più bello però comunque uno dei più affascinanti soprattutto quello che si trova fuori da Pisa per esempio in Sardegna no? Eh sì sì certo sono delle tracce delle testimonianze di romanico pisano meravigliose eh Andrea io ti ringrazio ricordo ancora il titolo del libro per chi lo vuole acquistare lo trovate su Amazon ovviamente è Pisa e l'Islam scontri e incontri sulle rotte del Mediterraneo di Andrea Angelini pubblicato da pochissimo da pochi giorni da Italia medievale 70 69 pagine per 10 euro una lettura gradevole veloce e che penso porterà il lettore poi ad appassionarsi alla storia di Pisa e andarla approfondire perché ne vale veramente la pena Andrea io ti ringrazio ringrazio tantissimo grazie a voi grazie a te per l'occasione e la possibilità di aver fatto questa cosa ecco è un piacere fa parte di diciamo del del piacere che proviamo nel poter dar voce ai giovani ricercatori e giovani studiosi cosa che non avviene molto spesso ed è un peccato perché ci sono tante tante menti che meriterebbero più visibilità e noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare quello che possiamo grazie ancora ricordo a tutti di seguire Italia Medievale sul sito che è www.italiamedievale.org dove troverete tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato in quest'ultimo anno pandemico sperando di tornare presto a fare queste presentazioni in presenza e magari di aver l'occasione di ospitarti a Milano per presentare il tuo saggio grazie ancora Andrea e a presto a presto grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti